Ok School con Skype anche quest'anno fa questa manifestazione e ne siamo orgogliosi. Torna anche quest'anno in occasione dell'Open Day organizzato per sabato 15 dicembre, belli dentro e fuori con massaggi, trucco e parrucco solidali da parte di Ok School Academy per lo Skype. Nell'ambito dei nostri scambi culturali ma anche per insegnare ai ragazzi che il mondo è grande, il mondo è anche quello fuori dal nostro giardino, apriamo le porte della nostra scuola, l'apriamo a tutte le persone che vogliono venire a farsi un trattamento sia di acconciatura che di estetica che di trucco. A queste persone chiederemo un piccolo contributo, questo contributo verrà versato a Skype per questa iniziativa. Ok School si trasforma quindi in un vero e proprio salone di bellezza dove ad ogni partecipante verrà chiesto di donare un'offerta minima che va dai 5 euro per i singoli trattamenti a 20 euro per la combinazione di più servizi. Il ricavato servirà a finanziare la ONG Bresciana Skype quest'anno per il progetto di Empowerment Giovanile negli SLUM di Nairobi che si colloca all'interno del progetto AICS in Kenya. Noi da un anno e mezzo siamo presenti in Kenya insieme alle ONG Bresciane Svi e Medicus Mundi in un progetto consortile che riguarda vari ambiti dall'educazione alla salute al microcredito. In questo caso con OK School andremo proprio a allacciarci col progetto di hairdressing e beauty che sono le estetiste e le parrucchiere che imparano una professione nella nostra scuola professionale dando così l'opportunità a circa 50 ragazze delle baraccopole di Nairobi di crearsi un lavoro e di crearsi poi un futuro per loro stesse e la loro famiglia.